Oggi sui giornali ovviamente tutti quanti gli articoli fondamentali riguardano la Catalogna e il referendum che si è tenuto ieri. Vi dico subito che i giornali sono fantastici perché oggi hanno messo in fila tutti gli errori commessi dal governo di Madrid, quello centrale, e anche dagli autonomisti indipendentisti di Barcellona. Io non so se certamente ci sono stati degli errori, però con il senno di poi gli errori sono pieni. Quello che sta succedendo si è visto che il 90% delle persone che vivono in quel paese, in quella zona, in quell'area, 2 milioni di persone hanno votato per l'indipendenza. Non so se si possa parlare di errori, ma si può certamente parlare di una determinazione fortissima nel voler essere autonomi rispetto al governo centrale, addirittura indipendenti rispetto al governo centrale di Madrid. Devo dirvi la verità, oggi mi sarei atteso sui giornali più commenti, in realtà c'è più cronaca. La cronaca l'abbiamo vista ieri, la cronaca ovviamente ha il suo senso perché con 800 feriti, con un'altra cosa incredibile, cioè che la guardia civile, la polizia nazionale era contro la polizia locale, tant'è che la polizia locale solidarizzava e la polizia nazionale invece pestava, la mettiamo così in maniera semplice. Devo dire la verità che già questo dà il senso di un paese in cui un pochino di sapore di guerra civile sembra esserci due polizie una contro l'altra. Poi la cronaca ne racconta di tutti i colori e di tutte le vicende. Secondo me è interessante oggi sul libero Paolo Becchi che dice una cosa diversa, continuate a parlare di legalità nell'aver fatto questo referendum, la legalità non c'entra a nulla perché nell'indipendentismo, la dico male, Becchi la scrive meglio, in realtà c'è una forza rivoluzionaria che non ha molto a che vedere con le norme, le leggi, le costituzioni, è la rottura di un patto, è come un divorzio, si rompe. Certo i divorzi hanno delle regole, dico io. L'altra cosa che dice Becchi, secondo me molto interessante, è quella di dire attenzione perché questo indipendentismo è un indipendentismo che non ha nulla a che vedere rispetto ai vecchi indipendentismi, è un indipendentismo nazionale, cioè vogliono diventare loro stesse nazioni. Insomma ne potremo discutere fino alla morte, ma due considerazioni voglio fare. Una è che io pensavo che quando c'è un popolo che si ribella, che vuole votare, che vuole con tutte le forze essere indipendente, insomma i dati dei feriti di ieri sono nulla rispetto a quanto mi sarei atteso, viste le premesse, con polizie l'una contro le altre, con dichiarazioni. Quindi se volete oggi più che gli errori parlerei, sempre che le cose non cambiano nei prossimi giorni, di una grandissima responsabilità di tutti quanti. È esattamente il contrario, c'è un popolo che si vuole staccare, l'altro popolo che lo vuole tenere dentro, quel popolo fa di tutto per staccarsi, beh insomma tutto sommato abbiamo visto niente rispetto alle guerre civili di cui abbiamo visto nel passato spesso in Spagna. La seconda questione invece, scusatevi, è contro questa palla della democrazia. Io non sono, adesso non voglio sembrarvi troppo nazionalista, ma la democrazia è una minchiata per noi liberali, cioè non è che se il 99% degli italiani decide che porro deve diventare biondo, porro diventa biondo. La democrazia per un liberale è uno strumento, ma non è il fine, perché se no abbiamo proprio un altro principio. Non è che una legge perché è votata da un Parlamento, quindi seguendo una procedura, così come ci ha spiegato Hayek, deve diventare necessariamente una legge giusta, solo perché è democratica e giusta. No, è una legge democratica e quindi noi essendo democratiche in questo Paese la rispettiamo, però possiamo avere anche la legittimità di dire che le scelte democratiche possono essere, come spesso avvenne con le leggi italiane, delle scelte assurde. Il codice antimafia è stato deciso dal Parlamento italiano con una maggioranza del Parlamento italiano fa schifo, non è che una procedura democratica garantisce la bontà del risultato. Chiaro, questo vale non solo per l'indipendenza della Catalogna, ma per tutte le leggi italiane, ma questa è una cosa forse un po' sofisticata che vi annoia di prima mattina. Andiamo sulle cose che, un'altra cosa di cronaca, l'attacco a Marsiglia riguarda, guarda caso, altre due donne sgozzate da un nordafricano che le uccide dicendo Allah Akbar. Oggi la Sarzanini sul Corriere della Sera dice che ce l'hanno con le donne, finalmente ce ne siamo resi conto, ma se uno poi pensa che nell'Abbia Saudita le donne soltanto da giugno potranno guidare la macchina, beh io non metto le due cose insieme, però forse una certa cultura antidonne la possiamo mettere sullo stesso piano, non puoi guidare la macchina, non puoi andare allo stadio, non puoi fare il tifo. Poi dopo, certo, da questo a dire che si sgozzano le donne, no, ma che forse una certa cultura, come dicono a me, sessista in alcuni paesi arabi. Cioè, Staino, a proposito di cultura sessista, va a fare le sue vignette sull'unità, sull'avvenire, scusatemi, viene dall'unità e va a fare le sue vignette dell'avvenire. A questo punto può succedere tutto, anche che io scriva per il manifesto, perché se vedo Staino che dice, beh sì, se io ho perso il lavoro, non ero disoccupato, non ero più direttore dell'unità, e quindi dove vado? Dove va un disoccupato che faceva il direttore dell'unità? Sull'avvenire. Ci sta tutto, perché oggi leggere l'avvenire e leggere l'unità sono esattamente la stessa cosa. Mi appassiona di più, a proposito di cose ridicole, la Capalbio dura di lotta, quella del Kalashnikov, si fa per dire che è di Furio Colombo. Furio Colombo oggi dedica due pagine al grande mito, pensate un po' voi, del poster che c'hanno tutti quanti i ragazzini della mia età avevano nella propria stanza. C'è Guevara, questo è un paese in cui se tu per sbaglio c'hai una bottiglia con l'effigie del Duce, vai in galera, perché c'è la legge Fiano, mentre invece se c'hai il poster del dittatore sanguinario C'è Guevara insieme a Fidel Castro, sanguinari, sanguinari, certo perché battevano i fascisti, quindi tutto è possibile se tu uccidi Battista che è un fascista, che poi in realtà era un dittatore corrotto americano, di fascismo c'aveva poco, beh allora se c'è il C'è Guevara va tutto bene. Due pagine celebra, questo è stato ordinario, C'è Guevara con Sartre, con tutti gli intellettuali cornuti che hanno distrutto l'intelligenza della fine dell'ultimo secolo, quelli che amavano Pol Pot, quelli che amavano C'è Guevara, ecco io sono dall'altra parte, sono dall'altra parte, io quando leggo C'è Guevara, leggo i ricordi di C'è Guevara, penso semplicemente a quello che è stato 40 anni di repressione comunista dell'isola di Cuba, chiaro? Di cui ovviamente non si fa cenno perché Furio Colombo ricorda o C'è o soprattutto la sua infanzia e come tale sembra adorata. Io la mia infanzia la preferisco ricordare con i righeira, piuttosto, e sto scherzando ovviamente, piuttosto che con C'è Guevara, porca puttana. Andatevi a spiegare agli esuli cubani, decapitati Renzi e Poletti, cioè le loro effigi, i loro manichini sono stati decapitati in strada vicino alla reggia di Venaria dove c'erano gli antagonisti, va bene? Durante il G7 sul lavoro, una cosa molto delicata. Io sono, come vi ho sempre detto con Rob Spencer per il free speech, quindi si può fare qualsiasi cosa, dire qualsiasi cosa e si possono fare le cose più orribili. Certo è che però uno si qualifica, io non arresterei qualcuno che decapita Renzi virtualmente, però posso legittimamente dire che mi fa schifo uno che fa una cosa di questo tipo in piazza, così come i centri sociali che hanno manifestato, ma la cosa più grave è che questi centri sociali poi menano i poliziotti, uno di loro è stato arrestato e cosa fa il sindaco di Venaria del Movimento 5 Stelle, cosa fa il vice sindaco che organizza del Movimento 5 Stelle di Torerino, che contribuisce all'organizzazione di questa manifestazione, solidarizzano. Ecco questo non va bene, allora questo non va bene se si solidarizza con le manifestazioni violenti dei centri sociali contro il G7 che è stato fatto portare a Torino dall'Appendino. Questa è una delle grandissime contraddizioni dice giustamente oggi del Vigo sul giornale del Movimento 5 Stelle, che non può essere di lotte di governo, non può fare il G7 a Torino, chiedere di farlo e poi avere il tuo vice sindaco che sfila contro i ministri del G7 e il sindaco di Venaria che invece solidarizza con il capo dei centri sociali che viene arrestato. C'è qualcosa che non funziona se ci mettiamo tutto insieme? Beh certo se Staino scrive per l'avvenire, allora possiamo far tutto, possiamo far tutto. Comunque Colombo, guardate, più lo leggete con le due pagine di Colombo più vi mettete le mani nei capelli. Bene, l'ultima cosa è sul Sole24ore, ve la segnalo, era considerata una specie di regalo agli evasori, ma in realtà è la vera flat tax che funziona. La cedolare secca sugli affitti, 21%, e se ti becco che non paghi la cedolare secca ti faccio un mazzo così, dice la ragioneria di Stato, no, qualche organismo pubblico, non so, l'Istat mi sembra, che grazie, lo leggo oggi sul Sole24ore, che grazie alla cedolare secca per la sua semplicità, anche se il Sole dice che è complicata, e per certi casi è complicata, ma è semplice mentalmente, perché io pago il 21%, lo faccio, mi tolgo dalle palle ogni cosa, bene, con la cedolare secca è emerso il nero di un miliardo. Facile, no ragazzi? Riduciamo le aliquote, rendiamola semplice per tutti e tutti pagheranno. Certo, se poi non paghi gli fai un mazzo così, perché non c'è un buon motivo per non pagare una cedolare secca al 21% sul proprio affitto. Chiaro? Semplicissimo? Bene, oggi sul Sole ci sono i numeri che danno il senso di questo successo. Ricordatevi, se volete leggere un vero comunista, un vero anticlericare, il Presidente degli Ate italiani, dove lo leggete, le vignette del Presidente degli Ate italiani, sull'avvenire, il giornale dei Viscovi Italiani. Straordinario, number one. Ciao!